è andato fuori controllo io non ti faccio il tema o dai posso capire e mettere a caso distrutto no non ho fatto niente ma infatti ho visto che era Chris ma l'ha fatto dire al gamer e tu hai messo Wazureta però vabbè lo capite non lo so lo stavo presto a fare penso di rifiutare connessione fattigare nel frattempo parte contro il mind non lo sto sentendo ma 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 non lo sto sentendo non sai come sto reccando e sto registrando un insane demon quindi sai come magari mi devo concentrare anche perchè sto al 90 ma non era guardiamo secondo me ho fatto il 98 su Kevin raga così 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 si 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 non uscirà più da questa chiamata il bad ending è fantastico si 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 si